La Vespa, autentica eccellenza del Made in Italy con origini abruzzesi, è stata celebrata anche per i 70 anni del Vespa Club dell'Aquila, con un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale di posti italiane e con una cartolina. Una giornata importante a Palazzo Margherita con un'esposizione di pezzi unici che sono stati mostrati a tutti i cittadini. Sono tantissimi gli appassionati della Vespa, un movimento importante riconosciuto in 54 paesi del mondo. Come Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proprio nella settimana dedicata al Made in Italy, abbiamo fatto la prima emissione di questo francobollo, che è comunque una manifestazione di sovranità dello Stato, quindi il riconoscimento di un valore ad un'eccellenza. Il Vespa Club non sarebbe il Vespa Club se non avesse in più di 54 paesi nel mondo i Vespisti, i loro rappresentanti che comunque portano in giro questo marchio nel mondo e rappresentano quindi il design del Made in Italy, che già dal 1946, quando è nata, ha poi fatto parte del periodo del nostro sviluppo economico e che quindi ha rappresentato l'Italia in un momento molto particolare del dopoguerra. Sì, in realtà è un'eccellenza abruzzese perché l'ingegner Corradino da Scagno c'è dietro l'idea della Vespa e questo oggetto straordinario che è un simbolo dell'Italia, anche dell'Italia del boom economico, del rilancio post bellico, si sposa perfettamente con la meraviglia di Palazzo Margherita che noi apriamo ogni qual volta ci viene chiesto perché è uno scenario eccezionale e valorizza anche gli oggetti che mettiamo qui dentro. Qui presenti abbiamo delle Vespa veramente storiche, partendo dalla Vespa che rappresenta il Franco Bollo che è del 1946 a quella d'oggi che sono dei famosi pics, diciamo. Abbiamo dei Sadicar, abbiamo dei Calessini, abbiamo un'ape, abbiamo portato una trentina di Vespa per dimostrare il nostro collegamento alla città, la nostra passione, per far sì che i giovani si avvicinino al nostro mondo. Un grande impegno per questa iniziativa anche da parte del consigliere comunale Livio Vittorini che tanto si è speso per aprire le porte di Palazzo Margherita a questa iniziativa bella e ben organizzata. Grazie a tutti.